Ciao a tutti e bentornati a Pidole di Storia, bentornati alla nostra serie Imperatores con cui raccontiamo la storia dell'impero romano attraverso le storie dei suoi imperatori. La storia di oggi sarà una storia lunga e complicata, perché lungo e complicato è stato il regno dell'imperatore Maurizio, di cui parleremo. Un regno da molti apprezzato, perché Maurizio passa presso uno di quegli imperatori che cercarono di mantenere in piedi un impero che si stava sfaldando, un imperatore guerriero che condurrà tante campagne militari per riuscire a ripristinare quei confini che Giustiniano aveva creato ma che poi non si era troppo occupato di difendere, ma anche un imperatore cui regno avrà luci ed ombre, soprattutto nel modo in cui andrà a finire. Di cose da raccontare ce ne sono tante, dopo vi spiegherò anche come le racconteremo, quindi mettetevi comodi, iscrivetevi al canale se non lo siete già, cliccate sulla campanella per essere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video, ricordatevi che in descrizione c'è la playlist di Imperatore, se le altre playlist, se volete approfondire questo periodo storico o recuperarvi dei vecchi video, adesso sigla e poi iniziamo a raccontare. Inizio col fare una precisazione. Da questa puntata inizierà a diventare molto evidente che smetteremo di parlare di alcune zone dell'Europa. In realtà, man mano che raccontavamo questa serie Imperatore, se più o meno abbiamo sempre parlato di tutta l'Europa, di tutto ciò che gravitava intorno all'Impero Romano, e quando abbiamo approfondito la questione delle guerre di Giustiniano, ovviamente abbiamo approfondito anche la storia di alcuni dei popoli che venivano incontrati durante questo periodo. Da questo momento però smetteremo di parlare di alcune zone, a meno che queste non influiscano direttamente con la storia dell'Impero Romano, perché questa non è una serie per raccontare tutta la storia dell'Europa Antica, ma è una serie per raccontare la storia dell'Impero Romano. Inizieremo a non parlare più molto dei Franchi, inizieremo a non parlare più molto dei Visigoti, inizieremo a non parlare più molto dei Longobardi, e progressivamente li lasceremo andare. Questo per due motivazioni. Innanzitutto perché, ovviamente, è impossibile farlo. Mettiamocelo in testa. Voler raccontare bene la storia di tutti questi stati così separati è impossibile, a meno di non dedicare ore e ore a ogni singolo imperatore. Il secondo motivo è che, ovviamente, in questo modo si perde quella che è la visione specifica di uno stato, che è lo scopo della serie Imperatores. Io lo so che a molti di voi spiace, so che a molti di voi piacerebbe una serie che continua a raccontare la storia del regno dei Longobardi, parli dei Franchi e così via, ma magari la faremo in futuro. Adesso ci concentriamo sull'impero. Lo avete, ripeto, già iniziato a notare in qualche vecchia pillola, ma adesso diventerà evidente. Non è una cosa su cui torno indietro, ne sono assolutamente convinto che sia la strada migliore, e ripeto, magari in futuro ne parleremo in un'altra serie parallela. Torniamo però al nostro Maurizio, o meglio, iniziamo dal nostro Maurizio. Di lui qualche informazione, che è già una cosa buona rispetto ad altri imperatori precedenti, ce l'abbiamo. Sappiamo che è nato nel 539 d.C. ad Arabisso, una località in Anatolia. In realtà la sua famiglia pare che non fosse originaria di questa zona, ma fosse una famiglia di antica nobiltà romana. Romana forse non nel senso che originaria di Roma, ma che aveva avuto la cittadinanza romana molto prima della nascita di Maurizio. La cosa non è nota, che però ad un certo punto si era proprio trasferito in Anatolia. Grazie alla ricchezza e alla nobiltà della sua famiglia, Maurizio aveva avuto accesso alla corte di Costantinopoli. Si era formato presso questa corte, aveva iniziato a lavorare presso di essa, a vivere a Costantinopoli, e ad un certo punto si era legato ad una delle personalità di questa corte, cioè a Tiberio, che era comandante delle guardie imperiali. Se avete visto la scorsa puntata, saprete benissimo che il Tiberio, comandante delle guardie imperiali, era colui che alla morte di Giustino II era salito al trono come Tiberio II imperatore. E nel momento in cui questo era avvenuto, il nostro Maurizio era stato elevato lui a comandante delle guardie imperiali, proprio a sancire il legame tra queste due personalità. Nel 578 d.C. Tiberio II aveva pensato a Maurizio per comandare le truppe in Oriente. Era in corso la guerra tra Romani e Sasanidi, guerra scoppiata all'epoca di Giustino II, ne abbiamo parlato, e il generale che aveva comandato le truppe fino a quel momento, cioè Giustiniano, ovviamente lontano parente del Giustiniano imperatore, aveva sì ottenuto un'iniziale vittoria sui Sasanidi, ma poi si era mosso troppo rapidamente, molto più lentamente, chiedo scusa, di quanto si aspettasse l'imperatore, e soprattutto si era fatto sorprendere in Armenia e aveva perso metà dell'esercito. Per questo Tiberio aveva pensato a Maurizio e l'aveva mandato in Oriente per poter combattere. Ora, sulle qualità guerriere di Maurizio, gli scrittori antichi hanno scritto assolutamente meraviglie. Maurizio sarebbe stato un grandissimo generale, un teorico che addirittura avrebbe scritto un testo che è stato a lui attribuito per secoli, cioè lo strategicon, un testo famosissimo dedicato a come dovesse essere condotta un'armata in guerra, come dovesse essere addestrata, come l'organizzazione strategica delle armate, un testo che parlava di come dovesse essere utilizzata la cavalleria, ma anche di come si potevano utilizzare le truppe reclutate tra i contadini, come addestrarle, insomma un testo importantissimo a cui si rifanno tanti autori anche successivi. In realtà oggi sappiamo che questo testo è probabilmente un po' successivo, venne scritto ai tempi dell'imperatore Eraclio, ma il fatto che gli venga assegnato ci fa capire quanto veramente si pensasse all'epoca che fosse un grande comandante. In effetti Maurizio si comportò in maniera assolutamente degna nei quattro anni che passò a combattere i Sasanidi. Di questo abbiamo già parlato meglio nella scorsa puntata, quindi vi rimando a quello per approfondire, ma giusto per darvi qualche idea, quando nel 578 raggiunse l'esercito lo trovò demoralizzato e ovviamente molto indebolito, e una delle prime cose che fece fu di rimpolparlo, rimpolparlo con reclute provenienti dall'Armenia, ma anche con truppe mercenari assoldate nei Balcani e in Occidente. Mentre stava rafforzando questo esercito, i Sasanidi, secondo quanto viene raccontato, gli scrissero annunciandogli che presto sarebbero giunti vicino a lui, vicino alla città di Teodosiopoli e ai confini dell'Armenia, per combattere. Il nostro Maurizio li avrebbe attesi qui, ma i Sasanidi, tradendo la sua fiducia, avrebbero invece attaccato la Siria. Maurizio, a questo punto, che avrebbe potuto semplicemente cercare di puntare verso la Siria, ma che sicuramente sarebbe arrivato troppo tardi, decise invece di muoversi in maniera molto più aggressiva. Puntò dall'Armenia romana verso l'Armenia Sasanide, razzioti grano certa, grande città di questa zona, scese verso la Misopotamia Sasanide, passò vicino a Nisibise e tagliò le linee di rifornimento dei Sasanidi che puntavano in Siria, costringendoli a rientrare ad area, e ottenendo in questo modo non solo un grande bottino, ma anche la vittoria che aveva sperato. Negli anni successivi continuò con queste sue campagne, venendo peraltro coadiuvato da un altro ottimo generale, un armeno che si chiamava Narsete, ovviamente non era probabilmente imparentato con il Narsete che aveva condotto le campagne in Italia, ma l'origine era la stessa, e quindi il nome anche. I due condussero una serie di campagne che tra il 579 e il 580 addirittura li portarono ad un passo dalla città di Ctesifonte, dalla capitale dell'impero Sasanide, anzi si racconta che se non era riuscito a raggiungere la città di Ctesifonte era solo per un colpo di sfortuna, perché dovendo attraversare l'ultimo fiume aveva scoperto che i Sasanidi avevano distrutto l'unico ponte esistente nella zona, cosa di cui, peraltro, Maurizio aveva incolpato gli alleati arabi, i Gassanidi, dicendo che erano stati loro a rivelare quella che era l'idea di Maurizio e i Sasanidi per fargli distruggere il ponte. Gli autori antichi già loro dicono che in realtà era un'accusa assolutamente falsa e che i Sasanidi avevano loro spie e non dovevano rifarsi ai Gassanidi, ma un po' per tutto il regno di Maurizio vedremo che gli arabi non è che li tratterà esattamente benissimo, ma ne riparleremo ad ogni modo dopo. Nel 581 aveva sconfitto un esercito Sasanide e poi, per l'inverno, era rientrato a Costantinopoli. Lo aveva fatto per due motivazioni. Innanzitutto perché molto spesso i generai lo facevano, in inverno non si conducevano campagne, bastava mantenere i propri sottoposti, tra cui Narseta, la guida delle truppe, e si rientrava a Costantinopoli perché ovviamente la situazione era migliore, ma si rientrava a Costantinopoli anche per discutere di cose militari con l'imperatore. In realtà Tiberio lo aveva voluto anche per un'altra motivazione. Sentiva che ormai era invecchiato, sentiva che la morte stava arrivando, e voleva che Maurizio fosse il suo successore, anche perché Tiberio non aveva figli maschi. Per garantire questa successione aveva quindi deciso di farlo sposare, di farlo sposare proprio con la propria figlia Costantina. Un matrimonio, ovviamente, creato per dare un modo per giustificare la successione di Maurizio, ma che sarà in realtà pare un matrimonio abbastanza felice. I due avranno pensato addirittura dieci figli, sette maschi e tre femmine. Nei mesi successivi Maurizio si preparò quindi a succedere a Tiberio. Venne presentato al Senato, venne presentato alla popolazione, e quando il 13 agosto del 582 d.C. Tiberio II morì, Maurizio gli potesse succedere come nuovo Augusto. L'incoronazione di Maurizio fu molto semplice, così ci raccontano le fonti. Ci dicono che quando giunse a palazzo, da dove erano conservati i segni del potere, se li mise addosso direttamente da solo, senza alcuna forma di cerimonia. La cosa venne interpretata in due modi. Da una parte qualcuno lo interpretò come un segno di forza, come se Maurizio avesse voluto dire sono io stesso, con le mie forze, che sono diventato imperatore. Qualcun altro invece pensava che fosse semplicemente un modo per dimostrare che la sua politica sarebbe stata diversa rispetto a quella di Tiberio. Tiberio era stato apprezzato da una parte della popolazione, odiato da un'altra perché era molto prodigo con il denaro nelle casse dello Stato, il che voleva dire che molto denaro veniva impegnato per darlo alla popolazione delle città, per organizzare dei giochi, e ovviamente tutto questo aveva un costo e aveva svuotato le casse dello Stato, e invece Maurizio voleva dire che avrebbe avuto una politica molto più morigerata, a cominciare proprio dall'incoronazione che veniva fatta in questa maniera più semplice. In effetti, anche se purtroppo le fonti non è che approfondiscono molto, approfondiscano molto la questione, quello che è abbastanza chiaro è che Maurizio per tutto il corso della sua vita cercò di ridurre le spese dell'impero. Dopotutto se le casse erano vuote, questo ovviamente aveva degli effetti, aveva degli effetti innanzitutto sull'esercito, che non poteva essere pagato, non potevano essere reclutate le truppe, e in un momento in cui l'impero si trovava ad essere attaccato, ne abbiamo parlato meglio nella scorsa puntata, lo rivedremo oggi, praticamente in ogni sua provincia, la cosa era ovviamente molto, molto pericolosa. Per riuscire quindi a mantenere maggior denaro, e dato che non si potevano ulteriormente aumentare le tasse perché già avevano raggiunto un livello del tutto intollerabile, l'unica cosa che poteva fare il nostro Maurizio era quella di cercare di tagliare le spese. Tagliare le spese dal punto di vista civile, quindi riducendo i donativi verso le città, tagliare le spese dal punto di vista dell'organizzazione dei giochi, soprattutto a Costantinopoli, riducendo le corse nel circo, riducendo le altre feste, ma ad un certo punto anche cercando di tagliare le spese per l'esercito. Tagliare le spese per l'esercito venne fatto in due modi. Prima tentando di ridurre direttamente la paga, addirittura del 25%, cosa che vedremo quando racconteremo le battaglie, scatenerà in realtà una serie di grosse problematiche a livello locale, insurrezioni, scontri, malcontento. Dato che questa strada era difficilmente percorribile, ad un certo punto cercò di andare a lavorare su quelli che erano i costi per il mantenimento delle truppe, cercando di spingere le truppe a fare meno affidamento su tutto quello che gli arrivava dall'impero e fare invece maggior affidamento su ciò che potevano procurarsi direttamente in loco. Questo ovviamente non valeva tanto per le truppe che combattevano contro i Sasanini, che combattevano in territori desertici, dove c'era ovviamente poco da mangiare, ma valeva invece soprattutto per le truppe che combattevano nei Balcani. E di questo ne riparleremo alla fine della puntata. Questa riorganizzazione la si vide anche dal punto di vista amministrativo, perché sarà Maurizio a portare a terra una riorganizzazione di alcune parti periferiche dell'impero che probabilmente era già stata teorizzata e iniziata da Tiberio e che lui porterà a termine, andando a creare i cosiddetti esarcati. Ora, di loro abbiamo già parlato un po' nella scorsa puntata. Nell'ultimo periodo le spese per la gestione amministrativa dell'impero si erano fatte difficili, pesanti, anche perché esistevano due strutture sostanzialmente parallele, una struttura amministrativa civile e una struttura invece militare. Sotto Maurizio queste due strutture vengono fuse e sostanzialmente a prendere il comando è la struttura militare che viene affidata a questi esarchi, i quali prenderanno il controllo di zone periferiche e inizieranno a gestirle facendo molto affidamento non su ciò che gli arrivava da Costantinopoli, ma su ciò che riuscivano direttamente a procurarsi sul posto. I due esarcati più noti e gli unici due di cui abbiamo la certezza che vennero creati furono l'esarcato d'Italia, che fu il primo ad essere creato già nel 584 d.C. e affidato a Smeragdo, e l'esarcato d'Africa, che sarà invece creato qualche anno più tardi e che gestiva non solo l'Africa romana, ma gestiva anche la Sardegna, la Corsica e addirittura quel piccolo scampo di Spagna che ancora era nelle mani romane. Questi esarcati sono ovviamente un grosso cambiamento, perché spostano dal lato militare la gestione di province che fino a quel momento erano invece state più che altro gestite dal punto di vista civile. Concentravano nella piccola aristocrazia bizantina, passatemi termine così ci capiamo, che si era spostato in queste zone tutto il potere e lo toglievano invece a chi il potere fino a questo momento lo aveva gestito a livello locale proprio attraverso quella macchina amministrativa, che ovviamente non scompariva del tutto, ma che veniva riorganizzata in maniera completamente diversa. In Italia questo avrà anche un effetto di frammentazione, perché a seconda dei vari territori italiani la gestione sarà fatta in maniera completamente diversa. Ora, togliendo le zone ovviamente occupate dai Longobardi che uscivano dal controllo dello Stato, nel nord tutto quello che gravitava intorno a Ravenna veniva gestito direttamente dall'Esarca, con una nuova struttura tipicamente militare che è quello che vi ho appena spiegato. Il sud Italia, o quello che ne rimaneva, invece veniva gestito in maniera diversa. Qui la struttura amministrativa era sopravvissuta, era fortemente legata a Costantinopoli, forse meno, forse più ancora che a Ravenna, ed era, per così dire, di stampo più antico, più civile. Roma e Lazio erano un po' a parte, nel senso che ovviamente qui la figura del Papa era importante, un Papa che diventerà ben presto successore di Pietro sarà Gregorio I, cioè Gregorio Magno, ne parleremo dopo perché sarà un Papa veramente molto importante, e Lazio inizierà ad acquisire una propria autonomia anche dal punto di vista militare. Vi verrà assegnato un comandante, teoricamente al di sotto rispetto all'Esarca, ma che godeva di una sua autonomia, un dux, e inizierà a nascere quel ducato romano che progressivamente inizierà ad acquisire una sua autonomia. Alcune zone periferiche dell'impero che in generale iniziavano ad avere meno collegamenti con il centro inizieranno progressivamente questa strada verso l'autonomia e la vedremo progressivamente evolvere di imperatore in imperatore. Man mano che i collegamenti diventeranno più difficili, ancora di più ovviamente quando arriveranno gli arabi, questi territori continueranno a essere teoricamente sottoposti a Costantinopoli, ma in realtà governati da signori locali che gestivano il tutto senza più alcun tipo di controllo. Nell'Italia e dei Longobardi però inizieremo, torneremo a parlare tra poco quando parleremo degli aspetti militari. Di questi esarcati, secondo alcuni autori, ne vennero creati anche in Oriente, forse in Armenia, ma la cosa è dibattuta e non c'è nessun tipo di sicurezza di questo, anche perché magari vennero creati ma ebbero vita breve e ovviamente noi non lo siamo venuti a scoprire. Gli unici di cui abbiamo certezza sono appunto l'esarcato d'Italia e l'esarcato d'Africa. Altro aspetto interessante dal punto di vista della gestione dello Stato è quello religioso. Lo sapete, lo diciamo tutte le volte, uno dei grossi problemi degli imperatori di Costantinopoli era il fatto che se in Anatolia, a Costantinopoli, nei Balcani, in Italia, era forte il credo ortodosso, che seguiva il concilio di Nicea, ricordiamoci sempre che l'ortodosso non aveva la concezione che ebbe dopo l'anno 1000, ma anche l'Occidente, anche il mondo cattolico veniva considerato ortodosso, mentre invece in Egitto, in Siria, nell'Oriente, era molto diffusa l'eresia monofisita, eresia che era però talmente grande da non poter essere ignorata e che i vari imperatori avevano gestito in maniera diversa. Bene, Maurizio farà parte di quegli imperatori che cercheranno di mantenere un equilibrio, non ovviamente abrogherà le leggi che teoricamente condannavano i monofisiti, ma non farà nulla per farle rispettare, questo garantirà una certa stabilità all'Oriente. In realtà questa stabilità sarà non così certa, non così stabile, per due motivazioni. Da una parte alcuni accuseranno Maurizio di essere lui stesso un monofisita, o addirittura, o semplicemente di simpatie monofisite, e questo gli attirerà un po' di odio, soprattutto in Occidente. Dall'altra parte, i monofisiti in Oriente non si fideranno così tanto di questo imperatore, anche perché l'Oriente subirà attacchi e violenze durante le guerre dei Sasani, con i Sasanidi, addirittura violenze provenienti dai Mauri, dai Berberi, quasi, e in qualche modo rinfacceranno all'impero il fatto di non averli potuti difendere. Si stava iniziando a creare un solco di antipatie, di sospetto, all'intero della popolazione romana del Levante, nei confronti di quella di Costantinopoli, che sarà, lo vedremo poi, molto sfruttata dagli arabi, per potersi espandere in questa zona. Ma, ripeto, ne parleremo. Il regno di Maurizio, però, purtroppo, è soprattutto un regno di guerra. Un lungo regno in cui l'impero si trovò a combattere, lo dicevo prima, praticamente in ogni zona che controllava. Partiamo, dal punto di vista meramente geografico, dall'esarcato d'Africa. Ora, lo abbiamo detto, l'esarcato d'Africa controllava non solo l'Africa, ma le isole, Sardegna, Corsica, Baleari e il sud della Spagna. In Africa, nell'Africa propriamente detta, in realtà non ci fu molto da dire. L'esarcato aveva pochissime truppe da poter utilizzare, ma è anche vero che in questa fase non vi furono grosse sollevazioni. Chi dava grossi problemi erano i Mauri. Mauri, Berberi, che continuavano le loro razzie. Razzie che, proprio a causa della scarso controllo fatto dall'esarca, poterono addirittura condurre fino all'Egitto, giungendo a razziare addirittura delle oasi dei monasteri situati a poca distanza da Alessandria d'Egitto e ovviamente scatenando il panico tra la popolazione egiziana, nonché un certo odio nei confronti dell'imperatore. Molto più complessa era invece la situazione in Spagna, in quel piccolo scampolo di Iberia che era stato conquistato ai tempi di Giustiniano. Avevamo lasciato una situazione abbastanza instabile, legata a una lotta all'interno dei Visigoti. Il sovrano dei Visigoti, Leo Vigildo, era in effetti un sovrano ariano, altra eresia del cristianesimo, seguita da molti popoli germanici. Il figlio, Ermene Gildo, aveva però sposato una principessa dei Franchi. Franchi, che primo tra tutti i popoli germanici, avevano invece seguito il credo ortodosso, si erano convertiti al credo ortodosso. Bene, Ermene Gildo, proprio sulla spinta di questa moglie, si era a sua volta convertito al credo ortodosso, si era ribellato al padre e aveva conquistato alcune zone nel sud, si era installato nella zona di Siviglia. Una volta che aveva saputo di questa ribellione del figlio, inizialmente Leo Vigildo non l'aveva affrontato, un po' perché forse era restivo ad affrontare il proprio figlio, un po' perché in realtà aveva altri problemi, alcune rivolte nella zona dei Paesi Baschi, alcuni scontri di confine con i Franchi e per questo aveva atteso. Aveva atteso fino al 584 quando alla fine aveva marciato verso sud, aveva attaccato il figlio a Siviglia sconfiggendolo e costringendolo a fuggire per poi marciare verso Cordoba, all'epoca città romana, dove Ermene Gildo si era andato a rinchiudere. Ermene Gildo aveva chiesto aiuto ai romani, ma i cittadini di Cordoba, secondo alcune fonti corrotti da Leo Vigildo, gli avevano aperto le porte, gli avevano permesso di prendere il proprio figlio e di imprigionarlo. La moglie, insieme al figlio, era fuggita, la moglie insieme al figlio di Ermene Gildo ovviamente era fuggita, era stata catturata dai romani mentre cercava di raggiungere la Gallia e invece di restituirla ai Franchi era stata portata verso Costantinopoli. Il figlio era arrivato vivo a Costantinopoli e qui era cresciuto. La madre, invece, era morta in Sicilia. Anni dopo, lo citeremo dopo, i Franchi chiederanno la restituzione della loro principessa e i romani dovranno spiegare loro che in realtà era già morta da parecchio tempo. Ermene Gildo non farà una bella fine perché verrà imprigionato e nel 585 sarà fatto strozzare, probabilmente proprio dal padre. Oggi però è considerato santo, santo perché per la Chiesa è il primo ad aver introdotto il credo cattolico, ortodosso, ci siete voi in termine, in Spagna presso i Visigoti. Alla morte di Leo Vigildo, però, gli succederà il suo figlio secondogenito, Re Caredo, il quale, ad un certo punto, deciderà di seguire quella che era strazzata la strada del fratello Ermene Gildo e probabilmente per sancire una vicinanza con i Franchi con cui continuavano gli scontri, deciso a sua volta di convertirsi all'ortodossia. Non sarà una conversione esattamente facilissima, è tutt'altro. Ovviamente molti all'interno della corte si opporranno, cercheranno di rimanere ariani, ci saranno lunghi anni di scontri e Re Caredo poté destinare poche delle sue truppe a cercare di completare la riconquista dei territori romani. Anzi, addirittura in questo periodo l'imperatore poté dare mandato all'Esarca d'Africa di utilizzare una parte delle sue truppe per riconquistare una parte dei territori che gli erano stati strappati da Leo Vigildo. Re Caredo, che ripeto si concentrò principalmente su altre zone, fu ad esempio il sovrano che fece finire il regno dei Suebi conquistando praticamente tutto quello che c'era in Iberia a parte i territori romani, ad un certo punto si rivolse al pontefice chiedendogli di poter intercedere affinché i romani smettessero di riconquistare le sue terre. Ma il pontefice gli rispose, e questo ci fa capire che in realtà queste riconquiste erano veramente minime, che se si andava a vedere il territorio che i romani avevano ottenuto, avuto prima dell'arrivo di Leo Vigildo, questo era molto più grande e quindi Re Caredo non si doveva lamentare, far finta di niente e tenersi quello che era rimasto delle conquiste del padre. Ad ogni modo, la situazione continuava a essere molto instabile. I romani controllavano realmente solo le coste e questa zona presto uscirà dal controllo dei romani e i Visigoti se la riconquisteranno completamente. A questo punto lasciamo l'Africa e la Spagna e andiamo verso l'Italia. Andare in Italia vuol dire innanzitutto parlare del Papa e questo mi sembra ovvio. Papa, che almeno nel momento in cui Maurizio salì al potere, era il Papa Pelagio II, era in realtà molto vicino a Costantinopoli. Costantinopoli. Il suo successore, lo abbiamo già detto, Gregorio Magno invece non prenderà questa strada. In realtà non la prenderà proprio sud, inizialmente sì, poi progressivamente le cose cambieranno. Inizialmente Gregorio cercherà di mantenere il suo legame con Costantinopoli, condannerà lo scisma tricapitolino, questo scisma causato da una decisione presa da Giustiniano, ne abbiamo parlato nella sua pillola, e che vedeva praticamente il nord Italia opporsi alle decisioni di Costantinopoli. Il Papa continuerà a schierarsi dalla parte di Costantinopoli, cercherà di mantenere buoni rapporti con l'esarca, anche se non sarà molto facile, ma ad un certo punto arriverà a scontrarsi con l'imperatore, e la causa fu il Patriarca di Costantinopoli. Il Patriarca di Costantinopoli infatti negli ultimi anni 80 del VI secolo decise che alla sua carica al Patriarca sarebbe spettato il titolo di Patriarca Ecumenico. Il problema è che questo titolo era stato utilizzato fino a questo momento dal Papa, il quale era l'unico che poteva freggiarsi del fatto di essere appunto ecumenico, cioè di poter in qualche modo estendere la propria forza, il proprio ruolo, il proprio prestigio su tutti i territori dove vivevano dei cristiani. E ovviamente Gregorio si era rivolto all'imperatore, aveva chiesto a Maurizio di intercedere presso il Patriarca affinché smettesse di utilizzare questo titolo. Maurizio si era rifiutato perché ovviamente non gli interessava nulla della questione e quello che gli importava era di mantenere la pace e il Papa prima aveva creato un nuovo titolo. Dal 588 d.C. il Papa inizierà a definirsi Servus Servorum Dei, cioè Servo dei Servi degli Dei, di Dio scusa, non degli Dei, di Dio ovviamente, un termine che si ripaceva al Vangelo e che ovviamente in qualche modo gli dava, fingendo di essere molto umile, un ruolo superiore rispetto a tutti gli altri. Dall'altra parte Gregorio inizierà ad essere sempre più in scontro con l'imperatore Maurizio. I rapporti tra i due peggioreranno tanto che, ve lo anticipo, ne parleremo poi nella prossima puntata, quando Maurizio cadrà, Gregorio sarà molto rapido a mandare le sue felicitazioni all'imperatore Foca che lo sostituirà. ma ne parleremo meglio nella prossima puntata. Lo scontro tra il Papa e l'imperatore Maurizio si estendeva anche al modo di comportarsi con i Longobardi. Maurizio aveva dato ordine ai suoi esarchi a Smeragdo prima e a Romano poi che dal 590 d.C. lo sostituì di trattare in maniera militare con i Longobardi cioè voleva dire cercare in tutti i modi di riconquistare i territori che erano stati perduti. Gregorio che invece aveva capito che con i Longobardi sarebbe stato difficile avere a che fare dal punto di vista militare credeva che la strada migliore fosse quella di cercare una conversione religiosa far diventare i Longobardi a loro volto ortodossi anche loro erano cristiani ma erano ariani in modo da farli rientrare all'interno dell'ecumene cristiana mantenendo quindi un legame di tipo religioso che era ovviamente non quello che voleva Maurizio che invece l'Italia la voleva riconquistare. inizialmente dato che ovviamente non vi erano truppe per poter lanciare questa riconquista i romani avevano cercato di trovare degli alleati e questi alleati li avevano trovati nei franchi che più volte avevano pagato affinché calassero in Italia e portassero devastazione contro i Longobardi i franchi lo avevano fatto due volte ovviamente entrambe le volte pagati una volta avevano anche chiesto che venisse loro restituita la principessa come vi dicevo e appunto i romani erano stati costretti ad ammettere che era morta ma entrambe le volte erano stati respinti dai Longobardi quali si erano peraltro dati un nuovo sovrano nel 584 d.C cioè Autari nel 590 però il nuovo esarca romano ringraziando del fatto che erano giunte nuove truppe da Oriente perché la situazione con i Sasanidi si stava risolvendo aveva lanciato una campagna molto più aggressiva aveva stipulato un nuovo accordo con i franchi aveva riconquistato buona parte dell'Emilia e una parte del Veneto e addirittura era riuscito a mettere sotto assedio a Pavia lo stesso sovrano dei Longobardi l'assedio non si era risolto al meglio per carità perché alla fine i franchi si erano ritirati forse per una pestilenza forse per essere in disaccordo con i romani e anche lo stesso esarca romano aveva dovuto tornarsene a Rarenna però sicuramente aveva dato un colpo al dominio dei Longobardi l'anno successivo però la morte del sovrano aveva fatto sì che a salire al trono appunto nel 591 fosse un altro nobile Agilulfo il quale fin dall'inizio aveva deciso di cambiare il modo di combattere innanzitutto aveva stipulato degli accordi con i suoi vicini aveva accettato di pagare un tributo ai franchi aveva accettato di pagare un tributo agli avari e in questo modo si era assicurato i confini era già in accordo con i popoli e con i popoli della Baviera di cui aveva sposato una principessa chiamata Teodolinda dopodiché aveva lanciato nuovamente una serie di campagne verso sud campagne che lo avevano portato non solo a riconquistare buona parte dell'Emilia ma addirittura nel 593 d.C. a giungere a mettere sotto assedio Roma costringendo il Papa e la popolazione romana a pagare un tributo affinché si ritirasse nello stesso tempo nel sud Italia erano state lanciate delle campagne di conquista per espandere anche qui i domini dei due docati Longobardi del sud e quello di Spoleto e quello di Benevento che agivano in maniera autonoma rispetto al sovrano ma che ovviamente vi erano probabilmente alleati a questo punto Gregorio poté tornare in auge Maurizio che nel mentre era impegnato soprattutto nei Balcani accettò di cercare una soluzione immediata cambiò ancora una volta l'esarca venne mandato un'esarca maggiormente diplomatico cioè Callinico che insieme a Gregorio e insieme ad Agilulfo cercò di trovare una soluzione una tregua che in effetti permise di porre fine agli scontri che cristallizzò la questione per alcuni anni cristallizzò le conquiste Longobarde per alcuni anni pre Gregorio quello poteva essere un buon inizio anche perché aveva iniziato a lavorarsi a Agilulfo e in effetti si iniziava già a parlare della possibilità che i Longobardi potessero diventare ortodossi ma ovviamente non bastava ai Romani nel 601 quando la situazione anche nei Balcani stava iniziando a stabilizzarsi Callinico ricevette l'ordine da Costantinopoli di prepararsi a rompere quel trattato di pace con i Longobardi e ad attaccarli e così farà lancerà una campagna di conquista in Emilia catturerà addirittura la famiglia di Agilulfo lancerà una nuova campagna di conquista in Veneto e alla morte di Maurizio che morirà poi nel 602 lo racconteremo dopo la guerra in Italia era ancora in corso vi anticipo ma lo vedremo meglio nella prossima puntata che le cose non andranno assolutamente benissimo ma ripeto ne parleremo nella prossima puntata perché tutto questo Maurizio non lo vedrà spostiamoci però a quello che teoricamente era il fronte più caldo nel momento in cui Maurizio salì al potere cioè quello in cui lui stesso aveva combattuto in fronte con i Sasanidi inizialmente nel 582 scelse come suo successore al comando dell'esercito un tal Giovanni Mistacon Mistacon era un soprannome Mistax erano i baffi in italiano si dice ancora mustacchi ogni tanto si sente ancora dire e quindi era Giovanni il baffuto per farla molto semplice sicuramente doveva avere dei bellissimi baffi ma non era un gran comandante perché nei due anni successivi venne sconfitto due volte dalle forze Sasanidi per questo nel 584 venne sostituito da Filippico comandante che era peraltro imparentato con Maurizio perché era suo cognato Filippico per due anni non riuscirà a ottenere grossi risultati condurrà delle campagne limitate anche perché appunto il suo predecessore gli aveva lasciato un esercito abbastanza pezzi ma dall'altra parte non subirà particolari rovesci nel 586 lancerà però finalmente una campagna diretta verso Oriente e nel farlo andò in scontro contro un generale Sasanide che ci è stato tramandato con il nome di Cardaigan ora questo nome secondo alcuni non è veramente un nome ma era un titolo militare tant'è che un generale con lo stesso nome lo ritroveremo quando parleremo dell'imperatore Eraclio è possibile che siano lo stesso generale è possibile che siano parenti ma secondo la maggior parte degli storici in realtà questo era un titolo militare fatto sta che i due eserciti si scontrarono nella piana di Solacon non molto lontano dalla fortezza di Dara il generale Filippico in effetti riuscì a trovare una buona posizione per le sue truppe romane i due eserciti erano composti quasi totalmente solo da cavalleria i romani però avevano trovato una buona posizione perché in un territorio desertico si erano andati a posizionare molto vicini all'unico corso d'acqua esistente in questo modo potendo controllare l'approvvigionamento idrico e costringendo i Sasanidi a fare la prima mossa il generale Sasanide avrebbe avuto teoricamente due possibilità o ritirarsi ma in questo modo avrebbe dovuto fare un lungo viaggio nel deserto senza acqua e avrebbe rischiato di perdere molti uomini oppure attaccare sapendo che in caso di sconfitta questo avrebbe voluto dire l'annientamento dell'esercito i Sasanidi scelsero proprio questa seconda strada attaccare e addirittura per spingere i suoi uomini a farlo con maggior ferocia giunse al punto di buttare far vuotare per terra tutta l'acqua che avevano portato fino a quel momento sostanzialmente dicendo loro o vittoria oppure morte per sete i due eserciti si schierarono in maniera praticamente speculare divisi in tre parti una di fronte all'altra con i romani che affidarono la parte centrale ad un generale che diventerà molto noto ne parleremo meglio anche nella prossima puntata chiamato Eraclio il Vecchio non perché all'epoca fosse vecchio ma perché è il padre dell'Eraclio che poi diventerà imperatore inizialmente i due eserciti si scontrarono a lanciarsi in avanti furono i Sasanidi che iniziarono con un lancio di frecce mentre andavano incontro i romani e che poi piombarono addosso alle forze romane il primo scontro si accese sulla destra dello schieramento romano la sinistra dello schieramento Sasanide fu uno scontro acceso ma la cavalleria romana che era molto più numerosa rispetto a quella Sasanide in questa zona riuscì rapidamente ad avere la meglio Filippico riuscì a sconfiggere le forze Sasanide in questa zona e sperando che le sue sua cavalleria potesse aggirare quella nemica per piombaglia alle spalle la mandò verso il retro dello schieramento Sasanide la cavalleria romana però a questo punto perse di compattezza una parte invece di continuare lo scontro decise di recarsi nel campo dove del campo del generale Sasanide per poter impossessarsi dei suoi averi questo rappresentò un grosso problema perché le forze Sasanide del fronte sinistro non erano state realmente sconfitte ma erano solo state spinte verso la parte centrale e una volta riorganizzate si erano unite proprio a questa parte centrale per attaccare il corpo centrale dello schieramento romano che ovviamente si trovava ad essere molto più debole dal punto di vista numerico e qui se la battaglia fu vinta non si dovette proprio ad Eraclio che organizzò le sue truppe addirittura alcune le fece smontare per poter avere maggiore protezione contro i cavalieri che arrivavano e riuscì a reggere riuscì a reggere abbastanza tempo perché il lato sinistro dei romani sconfiggesse il lato destro dei Sasanidi perché Filippico riuscisse a convincere i cavalieri del suo lato destro a rientrare e in questo modo prendere in mezzo le truppe Sasanidi e praticamente annientarle una vittoria molto importante che darà un grosso vantaggio dal punto di vista militare proprio ai romani l'anno successivo le cose migliorarono ancora di più Filippico che non poteva temporaneamente comandare le truppe a causa di una malattia le affidò ad Eraclio il quale condusse una serie di campagne di razzie in profondità nel territorio Sasanide a favorirlo era anche il fatto che i Sasanidi in quel momento fossero impegnati in Oriente a combattere contro i turchi i Gokturc che avevano attaccato forse di concerto con i romani e li avevano razziato le province orientali questo momento positivo per i romani però non durò tantissimo e non lo fece a causa di un errore di Maurizio nel 588 infatti l'imperatore informò le truppe di aver sostituito il loro generale di aver richiamato Filippico e di averlo sostituito con un uomo chiamato Prisco Prisco non solo quando si presentò alle sue truppe pare che si comportasse in maniera molto altezzosa e per questo non fosse particolarmente apprezzato ma soprattutto aveva portato la notizia che l'imperatore aveva deciso che le paghe dei soldati da quel momento sarebbero state ridotte del 25% come potete immaginare i soldati non ne furono per niente contenti si ammutinarono ed elessero come loro nuovo comandante un tal Germano i Sasanidi probabilmente provarono ad approfittarne di questa situazione ma Germano che si stava si ammutinando contro l'imperatore ma rimaneva legato all'impero romano affrontò e sconfisso un esercito Sasanide nei pressi di Martiropolis dimostrando che i romani in questa fase anche se litigavano fra di loro rimanevano più forti dei Sasanidi alla fine la situazione si ricompose Prisco venne richiamato sostituito nuovamente da Filippico l'imperatore restituì la paga che era stata prevista prima ancora e Germano venne reintegrato nei ranghi e tutto questo permise di combattere nuovamente contro i Sasanidi in questa fase i romani iniziano però a perdere l'appoggio delle tribù arabe tribù arabe che peraltro erano maggioranza monofisita e questo poteva creare un certo scompiglio tribù arabe che però a cominciare appunto dai Gassanidi che erano alleati dei romani si erano spaccate in una serie di lotte intestine che li renderanno sempre meno utili alla causa romana in realtà si stava creando un nuovo centro di potere tra gli arabi ma questo centro di potere non era più al confine con i romani ma era molto più a sud centro di potere di cui ovviamente riparleremo tra qualche puntata tra qualche anno quando parleremo delle invasioni degli arabi intanto però ai Sasanidi le cose non andavano esattamente benissimo per combattere contro i turchi gokturk nel 588 dopo Cristo Ormisda IV l'imperatore il sovrano dei Sasanidi aveva chiamato un generale chiamato Baram Baram che proveniva da una nobile famiglia di origine parta di origine dei parti si era dimostrato un grandissimo generale aveva affrontato le forze dei turchi che avevano invaso le province orientali dell'impero Sasanide le aveva sconfitte più volte aveva addirittura messo le mani sul trono d'oro dei Khan dei turchi gokturk insomma una sconfitta assolutamente completa Ormisda però aveva iniziato ad essere geloso di lui aveva deciso di togliergli il comando di quelle truppe mandarlo in occidente a combattere nel caucaso e secondo quanto viene raccontato dalle fonti latine qui aveva prima sconfitto una nuova forza di turchi calata attraverso il caucaso qualcuno dice che fossero dei cazzari che stavano arrivando verso occidente ma poi era incappato in una piccola sconfitta contro le forze bizantine a questo punto Ormisda che ovviamente cercava semplicemente una scusa lo aveva accusato di non essere abbastanza abile gli aveva mandato un vestito da donne a un fuso dicendogli che era degno al limite di compiere i lavori delle donne e gli aveva ordinato di rinunciare al comando dell'esercito secondo le versioni invece raccontate dai cronicisti persiani questa seconda parte non è mai esistita i persiani dicono che in realtà Ormisda aveva deciso di togliere potere a Baram quando questi ancora si trovava in oriente fatto sta che Baram di farsi togliere il comando da sotto dalle mani ovviamente non aveva nessuna intenzione scrisse una lettera ad Ormisda in cui si riferiva a lui definendolo figlia femminile di Cosdro e gli disse che non aveva nessun diritto a governare che Baram sarebbe arrivato con il suo esercito e lo avrebbe sconfitto in effetti buona parte dei comandanti dell'esercito Sasanide si schierarono dalla sua parte Baram marciò verso la capitale Sasanide ma quando vi arrivò scoprì che Ormisda IV era morto ad ucciderlo era stata una congiura una congiura che poi aveva messo al potere il figlio di Ormisda Cosdroe II non è chiaro se Cosdroe II fosse in effetti colpevole di questa congiura fatto sta che molti anni dopo sarà fatto assassinare accusato proprio di aver ucciso il padre però ripeto gli storici non sono proprio del tutto sicuri di questa cosa Cosdroe cercò di accordarsi con Baram promettendogli di farlo diventare un generale ma Baram ormai puntava al trono e così dopo aver sconfitto le poche forze di Cosdroe prese Ctesifonte e divenne il nuovo sovrano dei Sasanidi Cosdroe però riuscì a fuggire e dove fuggì? ovviamente fuggì in occidente raggiunse le truppe le poche truppe che gli erano rimaste fedeli al confio dell'impero romano e una volta giunto qui mandò una lettera a Maurizio ora la cosa può sembrare un po' strana si erano combattuti fino a un secondo prima insomma forse poteva trovare un'altra strada ma in realtà un'altra strada non c'era la proposta di Cosdroe era molto semplice chiedeva ai romani aiuto per potersi riprendere il trono e in cambio prometteva non solo la pace non solo la sospensione di ogni tributo ma anche la restituzione di tutte le terre che i Sasanidi negli anni precedenti avevano strappato ai romani compresa la fortezza di Dara Baram pare che avesse mandato un'identica proposta a Maurizio al quale chiedeva di catturare Cosdroe consegnaglielo e in cambio avrebbe avuto pace ma Maurizio che forse credeva che in realtà Baram si sarebbe rimangiato la parola decise di rimanere fedele proprio a Cosdroe gli mandò un esercito per rafforzarlo e questo esercito romano insieme all'esercito rimasto fedele appunto a Cosdroe marciò nel 591 d.C. contro le forze di Baram e lo sconfisse Baram che aveva iniziato a diffondere come propaganda il fatto che lui fosse un grande conquistatore destinato a conquistare anche l'Occidente venne sconfitto quest'ultima parte è peraltro una cosa interessante perché pare che Baram si fosse autonominato Kai andando a recuperare una vecchia leggenda che diceva che mille anni dopo la nascita di Zoroastro sarebbe nato questo conquistatore nell'Oriente dell'Impero che avrebbe conquistato Roma e l'India creando appunto un grande impero universale all'epoca si pensava che Zoroastro fosse vissuto circa 4 secoli prima di Cristo 3-4 secoli prima di Cristo il che ovviamente faceva sì che temporalmente c'eravamo oggi sappiamo che in realtà è vissuto probabilmente un millennio prima non abbiamo ben chiaro il momento ma se è esistito è esistito un millennio prima e quindi ovviamente i calcoli erano completamente errati ma questa è un'altra storia chissà forse se facciamo bene i conti potrebbe essere stato Alessandro Magno ma in effetti non era nato in quella zona e il tutto quindi rimane semplicemente una leggenda Cosdroe rispetterà la parola data riconsegnerà ai romani i territori che gli erano stati strappati in Mesopotamia riconsegnerà la fortezza di Dara e addirittura consegnerà ai romani territori in Armenia gli consegnerà consegnerà Liberia quindi l'attuale Georgia consegnerà basti territori che addirittura i romani non possedevano prima dello scolpio della guerra e siglerà un trattato di pace un trattato di pace che reggerà fino alla morte di Maurizio quindi che finalmente era riuscito a chiudere questa guerra in Oriente a questo punto Maurizio poteva concentrarsi sull'ultimo fronte importante che gli era rimasto perché diciamo l'offronto italiano era assolutamente secondario cioè i Balcani potremmo dividere le guerre balcaniche in due fasi per quanto riguarda l'impero di Maurizio fino al 591 d.C. e dopo il 591 d.C. cioè dopo che potessero rispostare le truppe che si trovavano in Oriente fino al 591 la situazione non era molto cambiata rispetto ai tempi di Tiberio II gli slavi avevano continuato a penetrare nei Balcani gli avari avevano continuato a razziarli spingendosi verso Costantinopoli e continuando a chiedere a Maurizio il pagamento di tributi sempre più alti cosa che ovviamente Maurizio era stato costretto a concedere dopo il 591 però le cose iniziano a cambiare gli eserciti romani che fino a quel momento erano intervenuti solo quando slavi e avari si spingevano troppo vicino a Costantinopoli lasciando invece tutto il resto dei Balcani nelle mani degli avversari avversari che avevano riconquistato Sirmio che avevano spinto i romani verso le coste strappandogli tutto l'interno dopo il 591 gli eserciti romani torneranno a marciare attraverso i Balcani il primo comandante incaricato di farlo sarà il generale Prisco quello che abbiamo già visto non andare tanto bene contro i Sasanidi il quale condurrà le prime campagne che progressivamente riallargeranno il territorio a disposizione dell'impero cercherà di spingersi verso nord verso il Danubio e addirittura condurrà delle campagne oltre il Danubio per ricacciare indietro gli Slavi durante una di queste campagne terminata la campagna alla fine dell'autunno e preparandosi a tornare verso i campi invernali riceverà da Maurizio l'ordine di continuare a rimanere in quelle zone nella vecchia provincia della Dacia e svernare lì perché questo? perché ovviamente Maurizio voleva risparmiare sui costi necessari a sostentare un esercito nei campi invernali ma le truppe che si trovavano in un territorio acquitrinoso freddo e per niente agevole ovviamente di rimanere lì non avevano nessuna intenzione quindi chiesero al loro generale di poter tornare Prisco rispettò questa loro decisione e tornò indietro l'imperatore infuriato destituì Prisco almeno temporaneamente e miso al suo posto al comando il proprio fratello Pietro Pietro continuò a condurre però le campagne negli anni successivi progressivamente il campo d'azione romano continuò a ripristinarsi con l'idea apparentemente folle ma che incredibilmente stava riuscendo di tornare a ripristinare il confine addirittura sul Danubio non sempre andava bene diciamolo chiaramente non sempre andava bene perché ancora nel 597 gli avari tornarono a spingersi verso Costantinopoli si ritirarono ancora una volta solo a causa della peste che in effetti raggiungerà poi anche la città e grazie al pagamento di un tributo la peste in effetti indebolirà molto gli avari avrà degli effetti terribili anche sull'impero perché nel 599 la peste tornerà a colpire duramente Costantinopoli col Pilar Oriente e questo ovviamente causerà ulteriore instabilità anche perché i monofisiti accusavano della peste gli ortodossi e viceversa perché ovviamente un'economia già provata si troverà ancora più in difficoltà ma dal punto di vista militare nei Balcani le cose continueranno ad andare bene nel 597 così come aveva fatto una volta in Oriente Maurizio cercherà di tagliare le paghe ai suoi soldati anche nei Balcani questa volta ci penserà suo fratello Pietro a evitare che tutto questo avvenisse e Maurizio infuriato richiamerà Prisco e gli riaffiderà buona parte delle truppe negli anni successivi le battaglie però continuarono a essere positive i romani iniziarono a sconfiggere non solo più gli slavi ma anche gli avari risalirono verso nord e addirittura nel 599 Prisco condusse delle campagne oltre il Danubio nelle zone dell'Ungheria nei territori degli avari risalendo il Tibisco a dimostrare di come Roma stava la nuova Roma Costantinopoli stava tornando a riconquistare i Balcani nel 602 però successe qualcosa i rapporti tra Maurizio e i suoi soldati come c'è stato tramandato da molte tradizioni da molti resoconti erano progressivamente peggiorati i soldati non amavano doversi procurare il cibo direttamente in loco non amavano la minaccia di avere la loro paga decurtata e non amavano alcune scelte di Maurizio che nel 600 dopo Cristo si dice che avesse saputo di alcuni soldati che erano stati catturati dagli avari avesse saputo che il can degli avari era pronto a liberarli a patto che venisse pagato un tributo di una moneta d'oro ogni soldato aveva saputo che a un certo punto il can aveva ridotto questo tributo addirittura ad una moneta d'oro ogni sei soldati ma comunque si era rifiutato di pagarli con il risultato che i soldati erano stati uccisi nel 602 truppe romane si trovavano oltre il Danubio ancora una volta impegnate in Dacia e ancora una volta Maurizio aveva chiesto i loro comandanti di non riportarle indietro ma di svernare in quei territori anche per poter intervenire più rapidamente quando gli slavi avessero approfittato del periodo invernale per attaccare i Balcani le truppe però avevano forse raggiunto il punto di saturazione e avevano deciso di ribellarsi una volta ribellatisi quasi come fossimo in un'altra epoca avevano dichiarato come loro nuovo imperatore un centurione un centurione assolutamente sconosciuto fino a quel momento ma ne parleremo meglio nella prossima puntata chiamato Foca Foca che appunto era stato elevato imperatore dalle truppe che lo accompagnavano aveva accettato aveva iniziato a calare con il suo esercito attraverso i Balcani aveva man mano concentrato tutte le truppe romane nella zona che tutte probabilmente erano stanche di Maurizio e probabilmente aveva attirato dalla sua anche qualche comandante a cominciare da Prisco ma ripeto ne parleremo meglio nella prossima puntata ed era arrivato a Costantinopoli a Costantinopoli città che teoricamente avrebbe potuto difendersi facilmente anche da questo attacco in attesa che arrivassero le truppe ancora fedeli a Maurizio dall'Oriente però la popolazione era insorta la popolazione che a sua volta non tollerava il poco denaro non tollerava le mancate distribuzioni non tollerava la sospensione dei giochi era insorta i Verdi e gli Azzurri le due fazioni del circo che rappresentavano anche fazioni politiche si erano unite avevano preso d'assalto i palazzi del potere e avevano massacrato molti di coloro che erano fedeli a Maurizio e lo stesso Maurizio era stato costretto a fuggire insieme alla moglie e ai figli verso Oriente la sua fuga non era stata lunga Foca li aveva fatti raggiungere e Maurizio lo definirà un una persona non coraggiosa un codardo e da bravo codardo o forse diciamolo da persona intelligente perché altrimenti sarebbe scoppiata una guerra civile lo aveva fatto uccidere aveva fatto uccidere lui l'imperatore Maurizio e i suoi figli maschi forse uno si era salvato ma di questo ne parleremo meglio nella prossima puntata nel 602 d.C. in questa maniera diciamo abbastanza vergognosa terminava l'impero di Maurizio un impero abbiamo visto fatto di luce e ombre ma anche fatto di un costante tentativo di trovare una soluzione per l'impero trovare un modo per ripristinare la stabilità dell'impero e forse Maurizio c'era veramente arrivato tanto che qualcuno gli dà un soprannome già utilizzato per altri imperatori di Restitutor Orbis un nome forse un po' esagerato se vi passate il termine ma che ci dà un'idea di quanto poi Maurizio sia stato ben raccontato dalle cronache contemporanee e successive per il suo successore Foca come vedremo nella prossima puntata la storia e le cronache saranno invece completamente diverse ma ripeto ne parleremo nella prossima puntata ad ogni modo è stata una storia molto lunga spero di avervela sintetizzata al meglio sono stati tanti anni lo avete visto di regno vent'anni di regno e quindi probabilmente avrei anche potuto lasciare un po' più spazio alle battaglie ma ci saremo veramente un po' persi ma credo che abbiate capito come siano questi fronti e quanto difficile sia stato l'operato di questo imperatore che lo appreziate o meno ovviamente adesso lascio a voi la decisione prima di chiudere come sempre un grandissimo ringraziamento ad abbonati Patreon e a chi fa donazioni sul conto Paypal perché anche grazie al loro sostegno questo canale riesce ad andare avanti e riusciamo a produrre nuovo materiale a disposizione di tutti in particolare oggi vorrei ringraziare Serena Bertinato grazie mille tantissimo per il tuo aiuto per il resto come sempre io vi ricordo di essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche storie incredibili che nessuno scrittore nessun regista avrà mai la fantasia di mettere nelle loro opere e se volete curiosare tra qualcuna di queste storie qui a fianco c'è l'elenco delle piddole uscite fino adesso noi ci vediamo presto con la nuova piddola di storia settimana prossima per andare avanti con Imperatores a presto ciao ciao